Prosegue l'attività di contrasto alla pesca illegale condotta nell'ambito del compartimento marittimo di Porto Empedocle. Durante le ultime due settimane le motovedette della Capitenerie di Porto Empedocle in servizio in Polizia Marittima hanno condotto una serie di attività a lungo il litorale ricompreso tra i comuni di Agrigento e Porto Empedocle, Real Monte, Siculiana e Cattolica Eraclea. Le operazioni rientrano nella più ampia attività di controllo posta in essere dalla Capitenerie di Porto e dagli uffici dipendenti finalizzata all'esecuzione di capigliari controlli su tutta la filiera della pesca nonché di tutte quelle attività illecite connesse alla cattura e alla commercializzazione del prodotto ittico. Gli equipaggi delle motovedette impegnate nelle attività di contrasto alla pesca illegale hanno proceduto al sequestro amministrativo a carico di tre persone di rete da posta non consentite per complessivi 800 metri circa posizionate nello specchio di acqua adiacente il braccio esterno del molo di Levante del porto di Porto Empedocle e in zona caos a Maddalusa. Durante un'altra operazione sempre l'equipaggio della motove detta ha provveduto in località Punta Bianca l'accertamento e la contestazione di due illeciti amministrativi consistenti nella detenzione a bordo di attrezzi non consentiti per la pesca sportiva a carico di pescatori non professionisti sanzionandoli con l'elevazione di un verbale di illecito amministrativo di 1000 euro ciascuno e con il conseguente sequestro di complessivi 200 metri di rete da posta di tipo Tremaglio. La capitaneria di Porto Empedocle continuerà le operazioni finalizzate alla repressione di analoghe attività illecite con particolare riferimento alla pesca illegale di novellame di sarda la cui cattura contribuisce al depauperamento degli stock ITC.